Vai! Mi carica di più! Ma certo che te l'ho preso Gilles! Mi carico! Come faccio a riprendere il concerto che devo anche suonare e cantare? Ah! Dai, dal forno! Dai, lo so! Stavo male, in da Pistina Sarra! Ah, è arrivato a Dalla! Dove? E qua! E qua! Manager, dov'è il chitarrista? Inda, posso arrivare! Ah, come si è arrivato! Inda, voi siete arrivati! Posso arrivare? Posso arrivare? Posso parlare? E qua! A 1, 2, A 1, 2, 3, 1! Sui, 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 sui... No, 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 no! Ah... Ah... Grazie. 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 Sono andato a ascoltare quella lezione, è pazzesca. Allora registravano i dischi in diretta, tutti insieme un giorno, per costi, per tante cose. E l'ultima canzone del primo disco di Beatles è Push the Shout, dove Lennon è senza voce ma canta con una grinta che io ci metto un 1%. Però almeno un per cento voglio provare. Oh, si. Grazie. 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 You can do that. Grazie. 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 Massimo. Grazie. 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 Appar Kathryn. Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti